ciao a tutte e ciao a tutti allora oggi è un trucco sul nude però userò anche l'eyeliner ok allora volevo dirvi che ho comprato e ho utilizzato questo correttore della lovrin perché mi è stato consigliato da una di voi adesso proveremo e vi dirò come come si è comportato durante la giornata perché oggi devo andare via devo stare fuori tutto il giorno allora userò questa palettina del che si chiama eternal rose e ha questi toni tra il rosato e il marroncino allora facciamo così visto che metterò l'eyeliner sarà molto molto leggero questo trucco perché c'è già l'eyeliner che è importante per cui farò in questa maniera allora come io ho detto cerco di metterlo nella parte più alta della palpebra superiore allora ripeto qua nel video sembra molto più più marcato in realtà è abbastanza tenue come come colore allora c'è questo dorato appena 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 lo metto in questa posizione perché mi piace un sacco mi piace tanto e ne metto un pochino anche qua nell'angolino così adesso tanto arrivo con il pennello a dire che il colore diciamo gli ombretti sono già guardate questo è quello che che faccio vedete con appena col pennello ecco qua non faccio altro allora adesso cerco l'eyeliner giusto che l'avevo tirato fuori e dove diavolo l'ho infilato lo so solo io ma che pasticcio perché questo non va bene che è col pennellino invece questo è col feltrino questo non so non ho preso che è già un po' che l'ho preso questo allora vedete io guardo sempre in questo modo ok vediamo se riesco anche qui essendoci sotto il eccolo qua essendoci sotto l'ombretto non scrive molto poi già non era tanto scrivente questo coso ma eccolo qui lo metto vedete solo nella parte finale dell'occhio in questo modo così appena appena ok guardate così e poi oggi oggi userò questo come che mi piace di più come tipo di scovolino eccolo qui allora io di solito l'eyeliner lo metto dopo aver messo il mascara oggi non so per quale strano motivo l'ho messo prima ma ogni tanto faccio delle belle cose che punto io solitamente lo lo metto dopo perché voglio vedere l'occhio com'è con diciamo con le ciglia con il mascara sopra e allora preferisco solitamente metterlo dopo probabilmente farò lo lascerò così perché non voglio pasticciare ulteriormente ho le le ore che sono a posto metto appena un pochino di rossetto nudo che mi piace molto non è tanto vale io sono a posto ciao a tutte bacione ciao ciao ciao